Sciopero e presidio di USB dinanzi alla portineria della direzione con i lavoratori Acciaierie d'Italia, il Vainase e Appalto per dire no alla richiesta di CIGS per ristrutturazione fatta da Acciaierie d'Italia. Ascoltiamo Vincenzo Mercurio, coordinatore di fabbrica USB per Acciaierie d'Italia. Stamattina siamo qui per ribadire il nostro concetto di essere stanchi di questi atteggiamenti, perché sono atteggiamenti unilaterali da parte dell'azienda, anche la richiesta di questo ammortizzatore sociale che non rispecchia le reali esigenze dei lavoratori, tant'è vero che da tempo ormai subiamo questa situazione che nello stabilimento si riversa, abbiamo bisogno di interventi seri che mettono al centro veramente le esigenze dei lavoratori soprattutto e dello stabilimento. se si vuole continuare ad andare avanti con questo stabilimento, purtroppo ad oggi continuano ad arrivare promesse che vengono puntualmente disartiste, tant'è vero che noi come USB abbiamo chiesto anche al governo di intervenire seriamente mettendo al centro veramente le esigenze dei lavoratori, dei cittadini di Taranto che ormai da anni subiscono queste azioni.